Dov'è il caglio? Chi? Io so dove è andato. Apprezzo il tuo aiuto, Clare, ma qui ho finito. Tu e Ritman, eravate soci. È stato un milione di anni fa. Cosa vi è successo in quella pioggia di meteorite? Fidati, ma siamo gli undici da esserne stati impensati. Che c'è, catteli? Come ha convinto mio padre a vendere la fattoria? Fino a quel giorno eravamo i peggiori venditori che fossero mai insistiti. Ma da quando ci tirarono fuori da quell'auto, con una sola stretta di mano siamo stati in grado di far fare alla gente qualità cosa. Comprare un trattone, stare in piedi sulla gamba. Avete il potere della persuasione? Fino a quanto dura? Fino a che non fanno quello che gli dico. Potrebbero essere due minuti, due ore. Poi non si ricordano più niente. E se non riescono a fare quello che vuole, continuano a provare fino a quando non ne vengono tirati fuori a forza, come per Witt. Sembra bello in teoria, ma che ne dice di provarlo? Chloe! Cosa? Lui vive in una schifosa urbata nel bosco. Se avesse questo potere lo userebbe per vendere queste sculture. È pericoloso. Non riesci a spaventarmi. Tu provi qualcosa per calar che non ha vero. Lo vedi e lo desideri. Per tutto questo tempo l'hai tenuto nascosto. Ora puoi mostrarlo. Ok, parta. Sono pronta. Che c'è? Perché mi guardate così? E perché la mia bocca si alimenta? Una dimostrazione riuscita. Oh, dio, Gio. Non importa, è stato... Meglio. Ora...